Che cosa ne pensa del vaccino AstraZeneca? Una domanda così fatta a brucia pelo, non è il vaccino AstraZeneca, diciamo che un vaccino AstraZeneca è stato un vaccino che è stato testato, è stato ritenuto un vaccino sicuro ed efficace con le sperimentazioni che ha eseguito. E' stato provato prima dall'EMA e poi dall'AIFA, adesso c'è questo problema per cui è stato ritirato. E' stato ritirato, però bene a precisarlo, in via precauzionale e temporaneamente. Adesso vedremo perché giovedì si riunirà ancora l'EMA, che è l'ente regolatorio a livello europeo, e deciderà se i fatti avvenuti, i fatti di quegli casi di tromboboboli avvenuti, se sono stati una casualità o una causalità. Cioè se sono dovuti al vaccino oppure se è stato un fenomeno che si è presentato spontaneamente, indipendentemente dall'inoculo del vaccino. Bisogna dire che viviamo in un periodo di pandemia, muoiono ogni giorno centinaia di persone. E quindi bisognerà vedere nel proseguio come andrà la campagna vaccinale. Perché questo aspetto, purtroppo, nell'immaginario collettivo diventa un problema per chi dovrà vaccinarsi o per chi ha già fatto il vaccino AstraZeneca, che già si sente magari, i medici ricevono centinaia di telefonate, le pensi che solo nella provincia di Rovigo sono state fatte circa 1900 vaccinazioni con l'AstraZeneca. Però nessuno ha avuto problemi fino ad oggi, quindi bisognerà vedere cosa succederà. Vediamo giovedì cosa succede con l'Emma. Ma io penso, guardi, siccome non c'è stato nessun aumento di fenomeni tromboembolici in rapporto al vaccino, di fenomeni che ci sono comunemente tutti i giorni, perché tutti i giorni ci sono molte persone che purtroppo soffrono di queste patologie, vedremo cosa succederà. Però direi che attualmente la cosa è abbastanza... non bisogna farsi prendere dal panico, assolutamente no. Io invito la popolazione a seguire le cose, tutto quello che sarà detto, a seguire i provvedimenti che saranno presi da l'Emma, che io mi auguro, mi auguro veramente, che il vaccino possa essere messo di nuovo in attività. Secondo lei ci sarà un rallentamento nelle vaccinazioni? Purtroppo temo di sì, perché la campagna mediatica è stata abbastanza importante su questo aspetto e molte persone, indipendentemente anche dal tipo di vaccino, già con le vaccinazioni, molte volte hanno dei problemi. Non dimentichiamoci però, perché succede questo? Quando una persona è ammalata, ha dolori, prende qualsiasi farmaco, non sta a leggere il foglietto illustrativo del farmaco, lo prende per star meglio. Il fatto è che i vaccini sono rivolti a una popolazione che in generale sta bene, quindi non è per togliere un dolore, per curare una malattia. Il vaccino è qualcosa che serve per la prevenzione, ma soprattutto per non morire. Siccome oggi giorno in Italia ci sono centinaia di morti da Covid-19, vale sempre il principio del rischio-beneficio. Posso rischiare di essere malato di Covid, di ammalarmi di Covid in un periodo di pandemia e rischiare la morte, o avere magari un beneficio di un vaccino che almeno mi tutela, magari può prevenire la malattia, ma soprattutto non mi fa morire. Grazie. Grazie a voi.